Eccoci con Marco Marelli di New Team Gelateria Italia. Allora, esordi in questo playoff? È andata bene, siamo una buona squadra, abbiamo tenuto bene e se continuiamo così arrivo al finale. Abbiamo i mezzi, abbiamo i mezzi per arrivarci. Beh, poi una volta arrivati. Una volta arrivati, poi gli si gioca. Beh, partita equilibrata nel primo tempo, poi si è ripresa a due gol. Sì, loro stavano bene dietro, è stato difficile comunque bucare per gol. Poi dopo il primo... Sì, non l'abbiamo subito tanto, l'abbiamo controllato, però era dura sblocarla al secondo. E alla fine è una discesa. Va bene, quindi ci vediamo la prova. Andiamo fiaro.